Un eccesso di sovrani Tutti gli uomini sono peccatori, ci insegnano i padri del credo. Persino i più nobili fra i monarchi e i più cortesi fra i cavalieri possono ritrovarsi travolti da ira, lussuria e invidia, e commettere azioni che li colmino di vergogna e insozzino i loro nomi. E i più vili fra gli uomini e le più malvagie fra le donne possono parimenti essere buoni di tanto in tanto, giacché amore, compassione e pietà albergano persino nei cuori più neri. «Noi siamo come gli dèi che ci hanno creati», scrisse Septon Barth, «l'uomo più saggio che abbia mai servito come primo cavaliere, forti e deboli, buoni e cattivi, crudeli e gentili, eroici ed egoisti. Tenetelo a mente, se desiderate regnare sugli uomini». Di rado la verità di tali parole fu intravista con altrettanta chiarezza come durante il cinquantesimo anno dopo la conquista di Aegon. Non appena sorse il nuovo anno, in tutto il regno si progettava come contraddistinguere mezzo secolo di imperio Targaryen sul continente occidentale, con banchetti, fiere e tornei. Gli orrori dal regno di Magor stavano arretrando nel passato, il trono di spade e il credo si erano riconciliati, e il giovane regge Heris I era il beniamino del popolo e grandi lord, da vecchia città alla barriera. Eppure, all'insaputa di tutti, fuorché di pochi, nubi tempestose si ammassavano all'orizzonte, e tenue, in lontananza, i saggi potevano udire un rombo di tuono. Un regno con due sovrani è come un uomo con due teste, afferma la gente comune. Nel 50 d.C., il regno del continente occidentale si ritrovò benedetto dalla presenza di un re, un primo e di tre regine, come ai tempi di re Magor. Ma laddove le regine di Magor erano state delle consorti, sottomesse alla sua volontà, condannate a vivere o morire al suo capriccio, ciascuna delle regine, in titolo nell'anniversario del mezzo secolo, costituiva un potere a sé. Nella fortezza rossa di approdo del re, sedeva la regina reggente Alissa, vedova del passato re Ennis, madre del figlio di lui, Geheris, e sposa del primo cavaliere, Rogar Baratheon. Appena attraversato il golfo delle Acque Nere, alla roccia del Drago, una regina più giovane aveva fatto la sua comparsa quando la figlia di Alissa, Alisanne, una fanciulla di 13 anni, si era promessa in vincolo perpetuo al fratello Geheris, in contrasto con le volontà della madre e del lord suo consorte. E lontano a Occidente, su Isola Bella, con tutta l'ampiezza del continente occidentale, a separarla da madre e sorella, si trovava la figlia maggiore di Alissa, la cavalcatrice di Draghi, Rhaena Targaryen, vedova del principe Aegon, il Senza Corona. Nelle terre occidentali dei fiumi e in alcune zone dell'Altopiano, era già chiamata la regina in Occidente. Due sorelle e una madre, le tre regine erano unite da vincoli di sangue, lutti e sofferenze. Eppure, fra loro si estendevano ombre vecchie e nuove, che si infittivano ogni giorno che passava. L'amicizia e l'unità di intenti, che aveva permesso a Geheris, alle sue sorelle e alla loro madre di rovesciare Magor il crudele, aveva cominciato a sbriciolarsi, man mano che risentimenti e divisioni a lungo covati si fecero sentire. Per il tempo rimanente della reggenza, il re e ragazzo e la sua piccola regina si sarebbero trovati in profondo contrasto con il primo cavaliere e la regina reggente, una rivalità che sarebbe proseguita negli anni del governo di Geheris stesso e avrebbe minacciato di sprofondare di nuovo i sette regni nella guerra. Parentesi. Occorre notare, se non si vuole essere accusati d'omissione, che nel 50 d.C., nel continente occidentale, c'era una quarta regina, Elinor, la regina due volte vedova di casa Costeyn, che aveva trovato re Magor morto sul trono di spade e aveva lasciato a prodo del re dopo l'ascesa di Geheris. Vestita come una penitente e accompagnata solo da una damigella e un fedele uomo d'armi, si diresse a Nido dell'Aquila nella valle di Errin, per visitare il maggiore dei tre figli che aveva avuto da Ser Theo Bolling, e in seguito ad Alto Giardino, sull'Altopiano, dove il suo secondo genito era stato cresciuto dal Lord Tyrell. Una volta accertatasi delle loro buone condizioni, la regina di Magor pretese di riprendersi il figlio minore e riparò nella dimora di suo padre, alle tre torri sull'Altopiano, dove dichiarò che avrebbe vissuto in pace per il resto della sua vita. Il destino e il re Geheris avrebbero riservato altri piani, come documenteremo più avanti. Per ora basti dire che la regina Elinor non giocò alcun ruolo negli eventi del 50 d.C. Chiusa parentesi La causa immediata di tensione fu l'improvviso e segreto matrimonio del monarca con sua sorella, che aveva colto il primo e la regina reggente di sorpresa e scombinato i loro piani e progetti. Sarebbe tuttavia un errore credere che ciò costituisse l'unico motivo di freddezza. Gli altri matrimoni, che ebbero luogo nel 49, l'anno delle tre spose, avevano lasciato a loro volta delle cicatrici. Lord Rogar non aveva mai chiesto a Geheris il permesso di sposare sua madre, un'omissione che il re ragazzo interpretò come mancanza di rispetto. Per di più, sua grazia non aveva approvato affatto tale unione, come avrebbe poi confessato a Septon Barth. Stimava Lord Rogar in qualità di consigliere amico, ma non gli occorreva un secondo padre. e considerava la propria capacità di giudizio, il proprio temperamento e la propria intelligenza superiori a quelli del suo primo. Geheris, inoltre, riteneva di dover essere consultato per il matrimonio di sua sorella Rena, sebbene ciò lo avesse offeso assai meno. Invece la regina Alissa si era sentita profondamente ferita per il fatto di non essere stata né consultata per offrire un consiglio, né invitata alle nozze di Rena su Isola Bella. Lontano, a Occidente, Rena Targaryen nutriva le sue rimostranze. Come confidò ai vecchi amici e alle favorite che aveva riunito intorno a sé, la regina Rena non comprendeva né condivideva l'affetto di sua madre per Rogar Baratheon. Sebbene gli rendesse onore a malincuore per essere insorto a sostegno del fratello Geheris contro suo zio Magor, la sua inazione quando il proprio marito, il principe Egon, aveva affrontato Magor nella battaglia presso l'occhio degli dèi, era qualcosa che lei non poteva né dimenticare né perdonare. Inoltre, col passare del tempo, il risentimento della regina Rena crebbe sempre di più per il fatto che il suo diritto al trono di spade e quello delle sue figlie fosse stato ignorato per favorire il mio fratellino, come continuava a chiamare Geheris. Lei era la primogenita, ricordava sempre a chi fosse disposto ad ascoltarla, e una cavalcatrice di draghi prima di tutti i suoi fratelli e sorelle. Eppure Costoro e persino mia madre avevano cospirato per scavalcarla. Tornando adesso a quegli eventi, con il beneficio del senno di poi, è facile dire che Geheris e Alisanne avessero ragione in occasione dei conflitti che sorsero durante l'ultimo anno della regenza della loro madre e nell'attribuire alla regina Alice e al Lord Rogar la parte dei cattivi. È così che i cantori narrano la vicenda, certamente, ad ascoltare le loro composizioni. Il subitaneo e inatteso matrimonio di Geheris e Alisanne fu una storia romantica che non conosceva uguali dai tempi di Florian il giullare e la sua Jonquil. Nelle canzoni, come sempre, l'amore vince su tutto. La verità che presentiamo non è affatto così semplice. I dubbi della regina Alissa a proposito dell'unione divennero fonte di autentica preoccupazione per i suoi figli, la dinastia Targaryen e l'intero Reame. Ne erano timori privi di fondamento. Le motivazioni di Lord Rogar Baratheon erano meno altruistiche. Uomo orgoglioso era rimasto sconcertato e irritato dall'ingratitudine del re ragazzo che lui considerava come un figlio e si era sentito umiliato quando era stato obbligato a ritirarsi presso le porte della roccia del drago al cospetto di una cinquantina di uomini ai suoi ordini. Un guerriero fin nel midollo Rogar un tempo sognava di affrontare Magor il crudele in singola attenzione e non poteva digerire di essere stato svergognato da un ragazzo di 15 anni. Ma prima di giudicarlo troppo severamente faremo bene a ricordare le parole di Septon Barth. Sebbene infatti Rogar abbia commesso alcune azioni crudeli sciocche e malvagie nel suo ultimo anno come primo nel profondo non era affatto un uomo crudele un malvagio e neppure uno sciocco una volta era stato un eroe e occorre rammentarsene anche mentre osserviamo l'anno più fosco della sua vita. Immediatamente dopo il suo confronto con Geheris Lord Rogar riusciva a pensare a poco altro che all'umiliazione patita. Il primo impulso di sua signoria fu quello di ritornare alla roccia del drago con più uomini sufficienti a sopraffare la guarnigione e risolvere la situazione con la forza. Quanto alla guardia reale Lord Rogar rammentò al concilio che le spade bianche avevano giurato di dare la loro vita per il re e che lui sarebbe stato lieto di elargirgli un tale onore. Quando Lord Tully rimarcò che Geheris avrebbe potuto semplicemente chiudergli il cancello in faccia Lord Rogar non si lasciò dissuadere. Che lo faccia pure. Posso espugnare il castello se necessario. Alla fine solo la regina Alissa riuscì a farsi ascoltare da sua signoria placando la sua ira e a dissuaderlo da questa follia. Amore mio gli disse dolcemente i miei figli cavalcano i draghi noi invece no. non meno del consorte la regina reggente desiderava cancellare il frettoloso matrimonio reale giacché era convinta che la notizia avrebbe nuovamente scatenato il credo contro la corona. Le sue parole erano alimentate da Septon Matteus una volta lontano da Geheris e sicuro che le sue labbra non gli sarebbero state effettivamente cucite e il Septon ritrovò la lingua e non fece altro che parlare di come tutta la brava gente del regno avrebbe condannato l'unione incestuosa del sovrano. Se Geheris e Alisanne avessero fatto ritorno ad approdo del re in tempo per festeggiare l'anno nuovo come implorava la regina Alissa metteranno giudizio e si pentiranno di questa follia assicurò lei al concilio. La riconciliazione sarebbe stata possibile ma ciò non avvenne. quando le settimane continuarono a passare e il re non accennava a presentarsi a corte Alissa annunciò l'intenzione di rientrare alla roccia del drago questa volta da sola per supplicare i figli di tornare a casa. Lord Rogar lo proibì con rabbia. Se torni strisciando dal ragazzo non ti ascolterà mai più in vita sua. Ante posteo i suoi desideri al bene del reame e ciò non può essere tollerato vuoi forse che faccia la stessa fine di suo padre perciò la regina si piegò al suo volere e non partì. Che la regina Alissa volesse fare la cosa giusta nessuno può dubitarne scrisse Septon Barth anni dopo triste a dirsi tuttavia pareva spesso confusa su quale fosse più di ogni cosa desiderava essere amata ammirata elogiata un'aspirazione che condivideva con re Ennis suo primo marito invece un sovrano o una sovrana talvolta devono compiere scelte necessarie ma impopolari per quanto sappiano che ne deriveranno certamente riprovazione e biasimo e la regina Alissa sembrava spesso incapace di imporsi simili scelte i giorni passavano si facevano settimane e quindicine mentre su entrambe le sponde del golfo delle acque nere i cuori si indurivano e gli animi diventavano più ostinati il re ragazzo e la sua piccola regina rimasero alla roccia del drago in attesa del giorno in cui Jaehaerys avrebbe assunto il governo dei sette regni nelle proprie mani la regina Alissa e lord Rogar continuarono a tenere le redini del potere ad approdo del re alla ricerca di un modo per disfare il matrimonio del re ed evitare la calamità che erano sicuri stava per rabbattersi eccetto il concilio non informarono nessuno di ciò che era avvenuto alla roccia del drago e lord Rogar intimò duramente agli uomini che lo avevano accompagnato di non proferire parola su quanto avevano visto pena la perdita della lingua una volta che il matrimonio fosse stato annullato così ragionava sua signoria per gran parte del continente occidentale sarebbe stato come se non fosse mai avvenuto finché fosse rimasto segreto e finché l'unione non fosse stata consumata poteva facilmente essere messa da parte adesso sappiamo che ciò si sarebbe rivelato una speranza vana ma per Rogar Barateon nel 50 dc sembrava ancora possibile per un periodo fu di sicuro incoraggiato dal silenzio del re stesso Geheris aveva agito rapidamente per sposare Alisanne ma compiuto tale gesto non pareva avere particolare fretta di annunciarlo maestro Kalliper sempre vivace a 80 anni compiuti prestava servizio dai tempi di Visenia ed era assistito da due maestri più giovani la roccia del drago disponeva di un'intera riserva di corvi una parola di Geheris e il suo matrimonio sarebbe stato proclamato da un confine all'altro del regno ma non la pronunciò fin da allora gli eruditi hanno discusso circa le ragioni del suo silenzio si era pentito di un'unione così affrettata come si augurava la regina Alissa Alisanne l'aveva forse offeso in qualche modo era spaventato per la reazione del regno al matrimonio ricordando cosa si era battuto su Egon e Raena era possibile che le fosche profezie di Septon Matteus l'avessero scosso più di quanto gli piacesse ammettere oppure si trattava semplicemente di un ragazzo che aveva agito d'impulso senza curarsi delle conseguenze e che poi si era ritrovato incapace di decidere su come procedere tali spiegazioni possiedono tutte una loro forza persuasiva ma alla luce di quanto sappiamo di Jaehaerys Targaryen suonano tutte a vuoto giovane o vecchio questi era un re che non agiva mai senza riflettere a chi scrive sembra dunque chiaro che Jaehaerys non si stesse pentendo del matrimonio e non avesse alcuna intenzione di annullarlo aveva scelto la regina che voleva e ne avrebbe informato il reame a tempo debito ma in un momento a sua discrezione e in una modalità progettata al meglio per condurre la sua accettazione quando sarebbe diventato un uomo adulto e un re nel pieno esercizio del suo impero non un ragazzo che si era sposato per sfidare la volontà della sua reggente l'assenza accorte del giovane re non passò inosservata a lungo le ceneri dei bivacchi accesi per festeggiare l'anno nuovo si erano a malapena raffreddate che il popolo di approdo del re cominciò a porsi delle domande per mettere a tacere le voci la regina Alissa fece circolare la notizia che sua grazia stava riposando e riflettendo alla roccia del drago antica dimora della sua casata ma più il tempo passava senza il consegno di Geheris più lord e popolo cominciarono a interrogarsi il re era forse malato era stato imprigionato per ragioni ancora sconosciute il re ragazzo così di bel aspetto e affascinante si era trasferito in mezzo alla popolazione di approdo del re con tale libertà in apparenza deliziato dal mescolarsi con loro che questa scomparsa improvvisa non pareva affatto da lui da parte sua la regina Alisanne non nutriva alcuna fretta di ritornare a corte qui ti ho tutta per me giorno e notte disse a Geheris quando ritorneremo sarò fortunata se riuscirò a strapparti un'ora perché ogni uomo del continente occidentale vorrà un pezzo di te per lei quei giorni alla roccia del drago furono un idillio fra molti anni a partire da oggi quando saremo vecchi e grigi volgeremo lo sguardo a questi giorni e sorrideremo ricordando quanto fummo felici non c'è dubbio che Geheris condividesse tali sentimenti ma il giovane re aveva altri motivi per rimanere alla roccia del drago a differenza di suo zio Magor non era incline a scoppi d'ira ma più capace di serbare rancore e non avrebbe mai dimenticato né perdonato la sua esclusione dal concilio quando il suo matrimonio e quello di sua sorella erano in discussione e sebbene si è rimasto sempre grato a Rogar Baratheon per averlo aiutato a salire sul trono di spade Geheris non aveva alcuna intenzione di farsi comandare da lui ho avuto un solo padre disse a maestro Caliper durante quei giorni alla roccia del drago non me ne occorre un secondo il re riconosceva e apprezzava le vertù del suo primo ma ne conosceva altrettanto i difetti che divennero assai palesi nei giorni antecedenti le nozze d'oro quando Geheris stesso si ritrovò a dare udienza ai lord del reame mentre lord Rogar non faceva che cacciare bere e deflorare vergini Geheris era consapevole anche dei propri limiti limiti che aveva intenzione di correggere prima di sedere sul trono di spade suo padre re Ennis era stato giudicato con disprezzo come debole in parte perché non era un guerriero alla stregua di suo fratello Magor Geheris era determinato affinché nessuno potesse dubitare del suo coraggio o della sua destrezza con le armi alla roccia del drago poteva contare su Sir Merrell Bullock comandante della guarnigione sui suoi figli Sir Elin e Sir Howard un maestro d'armi veterano come Sir Elias Scales e i suoi sette i migliori guerrieri del reame ogni mattina Geheris si addestrava con loro nel cortile della fortezza urlandogli di attaccarlo più forte di incalzarlo di non dargli requie di assalirlo in ogni modo possibile dall'alba a mezzodì si allenava con loro affinando le sue abilità con la spada e lancia e mazza e ascia sotto lo sguardo della sua nuova regina fu un regime aspro e brutale ogni scontro terminava solo quando il re o il suo avversario venivano dichiarati morti Geheris morì così tante volte che gli uomini della guarnigione ne fecero un gioco esclamando il re è morto ogni volta che finiva a terra e lunga vita al re quando si rimetteva in piedi i suoi avversari diedero inizio a una gara scommettendo su chi riuscisse a uccidere il re più volte la vittoria come ci è stato tramandato andò a serpate la beccaccia i cui affondi della lancia presumibilmente irritavano alquanto sua grazia alla sera Geheris era spesso contuso e sanguinante con conseguente angoscia di Elisanne ma la sua destrezza migliorò così marcatamente che alla fine del suo soggiorno alla roccia del drago il vecchio ser Elias in persona gli disse vostra grazia non sarai mai una guardia reale ma se per qualche stregoneria tuo zio Magor stesso dovesse sorgere dal sepolcro io scommetterai su di te una sera dopo una giornata in cui Geheris era stato duramente messo alla prova e battuto maestro Caliper gli disse vostra grazia perché ti punisci così severamente il reame è in pace il giovane re si limitò a sorridere e rispose il reame era in pace anche quando mio nonno morì eppure mio padre era appena salito sul trono che nemici sbucarono da ogni parte lo misero alla prova per capire se fosse forte o debole e lo faranno anche con me non si sbagliava sebbene la sua prima prova quando arrivò sarebbe stata di natura assai diversa per cui nessun allenamento nei cortili della roccia del drago avrebbe mai potuto prepararlo perché essere salgiati sarebbero stati il suo valore come uomo e il suo amore per la piccola regina non sappiamo granché dell'infanzia di Alisanne Targaryen quale quintogenita di Rhaenys e della regina Alissa e femmina osservatori a corte la trovarono meno interessante dei fratelli maggiori che occupavano una posizione più alta nella linea di successione da quel poco che c'è stato tramandato Alisanne era una bambina assai intelligente ma ordinaria minuta ma mai malata gentile docile con un sorriso suave e una voce gradevole per il sollievo dei genitori non diede alcun segno della timidezza che aveva afflitto la sorella maggiore Rhaena da piccola né mostrò di possedere il carattere volubile e ostinato di Aerea figlia di Rhaena stessa in quanto principessa di una casata reale Alisanne fu circondata ovviamente da servitori e compagni fin dalla più tenera età da infante ebbe senza dubbio una balia come la maggior parte delle nobildonne la regina Alissa non allattava i propri figli in seguito un maestro le insegnò a leggere a scrivere e a far di conto e una septa la istruì nella devozione religiosa nelle buone maniere e nei misteri del credo fanciulle d'umili natali la servirono come damigelle lavando le sue vesti e svuotando il suo pitale e a tempo debito avrebbe certamente avuto lei di sue coetanee e di sangue nobile come compagne con cui cavalcare giocare e cucire non fu Alisanne a scegliersi tali compagne venivano selezionate per lei da sua madre la regina Alissa e sostituite con una certa frequenza per assicurarsi che la principessa non si affezionasse troppo a nessuna di costoro la propensione di sua sorella Reina nel mostrare uno sconveniente affetto e una particolare attenzione nei confronti di una lunga serie di favorite alcune delle quali giudicate meno che appropriate era stata occasione di molti mormorie a corte e la regina non voleva che Alisanne fosse oggetto di simili dicerie tutto ciò cambiò quando Reenis morì alla roccia del drago e suo fratello Magor fece ritorno dall'altra sponda del mare stretto per reclamare il trono di spade il nuovo sovrano nutriva poco affetto e ancor meno fiducia nei confronti di tutti i figli del fratello e c'era sua madre la regina vedova a Visenia a rafforzare tale sua volontà i cavalieri giurati e i servitori di Alissa furono congedati insieme ai domestici e ai compagni dei figli e Geheris e Alisanne furono affidati alla loro prozia la temibile Visenia ostaggi in tutto eccetto che di nome trascorsero gli anni del regno del loro zio sballottati tra Driftmark e la roccia del drago e a prodo del re a seconda della volontà altrui finché la morte di Visenia nel 44 d.C. offrì alla regina Alissa un'opportunità di fuga che lei colse con prontezza volando via della roccia del drago con Geheris Alisanne e la spada sorella oscura nessun resoconto affidabile della vita della principessa Alisanne dopo tale fuga è tuttora sopravvissuto non ricompare negli annali del re Ame fino agli ultimi giorni del regno sanguinario di Maegor quando sua madre e lord Rogar cavalcarono da capo tempesta alla testa di un'armata mentre Alisanne Geheris e la sorella Raena discesero su a prodo del re con i loro draghi senza alcun dubbio Alisanne fu circondata da ancelle e compagni nei giorni che seguirono la morte di Maegor sfortunatamente i nomi e le loro specificità non ci sono pervenuti sappiamo invece che nessuna di costoro accompagnò la principessa quando lei e Geheris fuggirono dalla fortezza rossa sui loro draghi eccetto i sette cavalieri della guardia reale la guarnigione i cuochi gli staglieri e altri servitori re e sposa non avevano altro seguito alla roccia del drago ciò era assai inadatto a una principessa per non parlare di una regina Alisanne doveva possedere una propria corte e in ciò sua madre Alissa scorse un'opportunità per indebolire e forse annullare il matrimonio la regina reggente si decise a inviare alla roccia del drago un gruppo accuratamente selezionato di compagni e domestiche per i bisogni della giovane regina il piano assicura grammaestro Benifer era della regina Alissa ma Lord Rogar lo accettò con estremo piacere Giackevi scorse subito un mezzo per piegarlo ai propri fini l'anziano Septon Oswick che aveva celebrato i riti nuziali per Geheris e Alisanne custodiva il tempio alla roccia del drago ma una giovane lady di nascita regale richiedeva di essere istruita in ambito religioso da una persona del suo stesso sesso la regina Alissa ne inviò tre la formidabile Septa Isabel e due novizie d'alti natali Quetane e di Alisanne Lyra ed Edith per governare le fanciulle e le ancelle a servizio presso Alisanne inviò Lady Lucinda Tulli consorte del Lord di Delta delle Acque la cui fanatica devozione religiosa era ben nota in tutto il treame con lei venne la sorella minore Ella di Casa Brum una fanciulla d'aspetto modesto il cui nome era comparso per un breve periodo fra le possibili consorti di Geheris le figlie di Lord Celtigar di recente irrise dal primo perché prive di mento seno e intelletto furono incluse fra loro dobbiamo pure impiegarle in qualche modo si suppone che Lord Rogar abbia detto al loro padre altre tre fanciulle di origini nobiliari provenienti rispettivamente dalla valle dalle terre della tempesta e dall'altopiano completavano il resto del gruppo Jennys di Casa Templeton Corianne di Casa Wild e Rosamund di Casa Belle la regina Alissa desiderava che sua figlia fosse assistita da compagne adeguate per età e stato sociale non c'è dubbio ma ciò non costituiva la sua unica motivazione nel momento in cui decise di inviare queste lady alla roccia del drago Sept a Isabel le novizie Edith e Lyra e la profondamente pia Lady Lucinda e sua sorella avevano un altro incarico la regina sperava che tali donne fieramente devote potessero far colpo su Alisanne e magari persino su Geheris convincendoli che per un fratello giacere con la sorella rappresentava un abominio agli occhi del credo i bambini come Alissa insisteva a chiamare il re e la regina non erano malvagi solo giovani caparbi istruiti a dovere avrebbero potuto smettere di comportarsi in modo sbagliato e pentirsi del loro matrimonio prima che questo facesse a pezzi il reame o così lei sperava le motivazioni di Lord Rogar erano più meschine non potendo fare affidamento sulla lealtà della guarnigione o dei cavalieri della guardia reale il primo cavaliere aveva bisogno di occhi e orecchi alla roccia del drago tutto ciò che Geheris e Alisanne avessero detto o fatto doveva essergli fedelmente riportato intimo in maniera chiara a Lady Lucinda e alle altre in particolare era ansioso di sapere se e quando il re e la regina intendessero consumare il loro matrimonio ciò sottolineò andava evitato con ogni mezzo e forse c'era anche altro adesso purtroppo dobbiamo dedicare un po' d'attenzione a un certo libro spiacevole che apparve per la prima volta nei sette regni circa 40 anni dopo gli eventi che stiamo prendendo in esame copie di siffatto volume continuano a passare di mano in mano nei bassi fondi del continente occidentale e si possono spesso trovare in taluni bordelli quelli rivolti ad avventori capaci di leggere e nelle biblioteche di uomini di dubbia moralità dove sono tenuti accuratamente sotto chiave celati agli occhi di fanciulle matrone bambini ed i casti e devoti il libro in questione è noto con vari titoli fra cui i peccati della carne alti e bassi un racconto lascivo e la malvagità degli uomini ma tutte le versioni recano come sottotitolo un ammonimento per le giovani vuole essere la testimonianza ad una fanciulla di nobili natali che avrebbe ceduto la sua virtù a uno stalliere nel castello di suo padre dato alla luce un figlio illegittimo e che da quel momento si sarebbe ritrovata a subire ogni sorta di malvagità immaginabile nel corso di una lunga vita di peccati sofferenza e schiavitù se il racconto è veritiero talune parti risultano francamente inverosimili nel corso della sua stessa vita l'autrice si ritrovò a essere ancella di una regina amante di un giovane cavaliere carovaniera nelle terre contese di Essox serva a Mir mima a Tyrosh oggetto di piacere di una regina corsara nelle isole del basilisco schiava nella vecchia Volantis dove fu tatuata e le imposero di indossare orecchini e anelli ancella ad uno stregone di Quart e infine padrona ad una casa di piacere a Lys prima di tornare un'ultima volta a vecchia città e abbracciare il credo presumibilmente concluse la sua vita come septa nel tempio stellato dove ne trascrisse la storia per ammonire altre giovinette a non seguire il suo esempio dettagli lascivi delle avventure erotiche dell'autrice qui non ci riguardano la parte che ci interessa si trova all'inizio del suo sordido racconto dove ci parla della sua giovinezza giacché la presunta autrice di un ammonimento per le giovani non sarebbe altri che Corianne Wild una delle ragazze inviate alla roccia del drago come compagna per la piccola regina non abbiamo modo di accertare la veridicità della sua storia e neppure se sia stata a tutti gli effetti l'autrice di questo libro infame certuni obiettano plausibilmente che il testo sia il prodotto di mani diverse perché lo stile della prosa varia in maniera notevole da episodio a episodio l'inizio della storia narrato da Lady Corianne risulta comunque confermato dai resoconti vergati dal maestro che servì a Castello della Poggia durante la sua giovinezza all'età di 13 anni viene riferito la figlia minore di Lord Wild fu davvero sedotta e deflorata da un rozzo ragazzo delle stalle né un ammonimento per le giovani lo si descrive come un giovane benente della sua stessa età ma la versione del maestro differisce dipingendo il seduttore come un balletto trentenne sfregiato dalla sifilide e che spiccava solo per un membro virile enorme come quello di uno stallone qualunque fosse la verità tale zotico fu castrato e spedito alla barriera non appena le sue gesta furono scoperte mentre Lady Corianne fu reclusa nelle sue stanze per dare alla luce quel figlio di infimi natali poco dopo la nascita il bambino fu inviato a Capotempesta dove sarebbe stato cresciuto da uno dei sovrintendenti del castello e dalla sua sterile moglie secondo i diari del maestro il bastardo sarebbe nato il 48 d.c da allora Lady Corianne venne attentamente sorvegliata ma ben pochi fuori le mura di castello della poggia conoscevano la sua disgrazia quando giunse un corvo messaggero per convocarla da prodo del re sua madre le comandò severamente di non fare alcuna menzione di suo figlio o del peccato commesso nella fortezza rossa devono considerarti una vergine ma mentre la ragazza si avvicinava alla città scortata da padre e fratello si fermarono a trascorrere una notte in una locanda sulla sponda sud delle rapide nere accanto al molo dei traghetti lì trovarono un grande lord in attesa del loro arrivo e qui il racconto si fa persino più intricato già che l'identità dell'uomo alla locanda è una questione di battuta persino fra coloro che credono che un ammonimento per le giovani contenga una dose di verità nel corso degli anni e dei secoli man mano che il libro veniva copiato e ricopiato vi si insinuarono molte modifiche e correzioni i maestri che lavorano alla cittadella come copisti sono rigorosamente addestrati a riprodurre l'originale parola per parola ma pochi scribi laici sono altrettanto disciplinati questi septo septe e sante sorelle quando copiano e illustrano con miniature i libri per il credo spesso emendano o alterano ogni passaggio che giudichino offensivo osceno o teologicamente infondato tuttavia poiché l'intero ammonimento è osceno risulta improbabile che sia stato trascritto da maestri o septon dato il numero di copie cui si conosce l'esistenza centinaia sebbene molte di più furono bruciate da bellor il benedetto è assai probabile che gli scribi responsabili siano stati septon espulsi dal credo per ubriachezza furto fornicazione studenti mancati che avevano lasciato la cittadella senza essersi forgiati una catena scrivacchini ingaggiati dalle città libere o guitti di infimo grado i peggiori di tutti sprovvisti del rigore dei maestri tali scrivani spesso si sentivano liberi di migliorare i testi che copiavano tendenza a cui i guitti di strada sono particolarmente inclini nel caso dell'ammonimento tali miglioramenti consistevano principalmente nell'aggiunta di nuovi episodi di depravazione e nel cambiare quelli già esistenti per renderli ancora più disturbanti e lascivi man mano che le modifiche si susseguivano negli anni divenne sempre più difficile accertarsi della versione originale tanto che persino i maestri della cittadella non concordavano sul titolo stesso del libro come abbiamo già sottolineato nelle copie intitolate peccati della carne e alti e bassi che si ritiene siano le più antiche e sono tendenzialmente le più succinte l'uomo alla locanda viene identificato come ser oris baratheon il maggiore dei quattro fratelli di lord rogar invece né un racconto lascivo e le malvagità degli uomini si racconta di lord rogar in persona tutte le versioni concordano su quanto accadde dopo congedati padre e fratello di lady corianne il lord ordinò alla ragazza di spogliarsi perché potesse esaminarla le sue mani percorsero tutto il mio corpo scrisse lei e mi comandò di voltarmi da una parte e dall'altra e piegarmi sdraiarmi e aprire le gambe alla sua vista fino a quando si dichiarò soddisfatto solo allora l'uomo le rivelò davvero lo scopo della sua convocazione ad approdo del re sarebbe stata inviata alla roccia del drago come damigella ancora vergine a servizio della regina alisanne ma una volta lì avrebbe dovuto impiegare ogni sotterfugio e le sue grazie per indurre il re a unirsi a lei jeheris è un ragazzino a cui piacciono le ragazze ed è infatuato di sua sorella pare che l'uomo le abbia detto ma alisanne non è che una bambina e tu la donna che ogni uomo desidererebbe una volta che sua grazia avrà assaggiato le tue delizie potrebbe tornare in sé e abbandonare la follia di questo matrimonio potrebbe in seguito decidere di tenerti con sé chi può dirlo il matrimonio è fuori discussione ovviamente ma riceverai gioielli servitori tutto ciò che desideri ricche ricompense attendono chi scalda il talamo di un re e se alisanne dovesse scoprirvi a letto tanto meglio è una ragazza orgogliosa e abbandonerebbe subito il marito infedele e se dovessi restare nuovamente incinta il bambino verrebbe ben accudito e tuo padre e tua madre riccamente ricompensati per i tuoi servigi alla corona aperta parentesi certone copie del racconto lascivo riportano anche un episodio amoroso in cui Lord Rogar stesso avrebbe avuto una conoscenza carnale della ragazza per tutta la notte ma si tratta quasi certamente di un'aggiunta successiva di qualche scriva lussurioso o lenone depravato possiamo dare credito a questa storia essendo trascorsi così tanti anni dagli eventi in questione con tutti i protagonisti deceduti da tempo non c'è modo di esserne certi oltre alla testimonianza della ragazza stessa non abbiamo nessun'altra fonte per verificare se questo incontro alla locanda accanto al traghetto sia mai avvenuto e anche nel caso in cui un barateon si fosse davvero incontrato privatamente con Corianne Wilde prima che lei giungesse ad approdo del re non siamo in grado di sapere cosa le disse avrebbe potuto altrettanto facilmente istruirla nei suoi compiti di spia e delatrice come era stato per le altre ragazze l'arcimaestro Cray scrivendo alla cittadella negli ultimi anni del lungo regno di regio Heris crede che l'incontro alla locanda sia una goffa calunnia per insozzare il nome di Lord Rogar e si spinge addirittura ad attribuire tale menzogna a Ser Horis Baratheon stesso che in seguito avrebbe litigato aspramente col fratello altri eruditi incluso il maestro Ribben il principale esperto alla cittadella in merito a testi censurati proibiti fraudolenti e osceni riduce l'intera storia a niente più che un racconto sconcio del genere noto per eccitare la lussuria di giovani uomini bastardi puttane e di coloro che ne cercano i favori fra il popolo si trovano sempre uomini laidi che si dilettano con racconti di grandi lord e cavalieri che deflorano giovinette scrisse Ribben perché ciò li persuade che uomini migliori di loro ne condividano comunque le vili concupiscenze può darsi tuttavia ci sono alcuni elementi che conosciamo senza ombra di dubbio e che ci consentono di trarre le nostre conclusioni sappiamo per certo che la figlia più giovane di Morgan Wilde lord di Castello della Pioggia fu deflorata in età precoce e diede alla luce un bastardo possiamo essere ragionevolmente certi che lord Roger sia venuto a conoscenza di tale vergognosa omiliazione non solo perché era il lord supremo di lord Morgan ma anche perché il bambino fu trasferito nei suoi stessi domini feudali sappiamo che Corian Wilde fu tra le fanciulle inviate alla roccia del drago come da mingella della regina Lisanne una scelta quantomeno singolare se davvero ci si aspettava solo una dama di compagnia dal momento che decine di altre ragazze di nobili natali ed età appropriata erano parimenti disponibili fanciulle dalla verginità intatta e dalle virtù irreprensibili perché lei si sono chiesti in molti nel corso degli anni possedeva forse qualche dono speciale del particolare fascino se fu così nessuno all'epoca lo sottolineò può darsi che lord Roger o la regina Alissa fossero in debito con lord suo padre o la lady sua madre per qualche favore o gentilezza nel passato non abbiamo alcun ricordo per quanto riguarda la scelta di Corianne Wilde non fu mai offerta alcuna spiegazione plausibile salvo quella semplice e brutale proferita nell'ammonimento che ella fu inviata alla roccia del drago non per Alisanne ma per Geheris parentesi si racconta che molti anni dopo quando re Aegon IV era mezzo ubriaco qualcuno abbia sollevato la questione in sua presenza si presume che sua grazia sia scoppiato a ridere e abbia sentenziato con convinzione che se lord Rogar non era uno sciocco avrebbe di certo istruito tutte le ragazze inviate nel 50 dc alla roccia del drago perché seducessero il re dato che il primo non poteva sapere a quale di quelle fanciulle Geheris avrebbe accortato la sua preferenza questa infame allusione ha messo radici fra il popolo ma non è supportata da prova alcuna e può essere facilmente scartata chiusa parentesi nei registri di corte si trova indicato che Septa Isabel Lady Lucinda e le altre donne scelte per il seguito di Alisanne e Targaryen saltarono sulla galea assennata all'alba del settimo giorno della seconda luna del 50 dc e partirono per la roccia del drago con la marea del mattino la regina Alissa aveva inviato notizia del loro arrivo tramite corvo messaggero ma pure così paventava che le assennate come divennero note da quel giorno in avanti potessero trovare le porte della roccia del drago sbarrate i suoi timori erano infondati la piccola regina e due guardie reali le incontrarono al porto mentre sbarcavano e Alisanne accolse ciascuna di loro con sorrisi e doni prima di riferire cosa accadde in seguito rivolgiamo il nostro sguardo brevemente su Isola Bella dove era Reena Targaryen la regina in occidente risiedeva col suo nuovo consorte e una corte tutta sua occorre ricordare che la regina Alissa non fu particolarmente lieta del terzo matrimonio della figlia maggiore non più di quanto lo sarebbe stata per quello che suo figlio avrebbe celebrato a breve sebbene l'unione di Reena avesse conseguenze minori nel fare questo tipo di valutazione la reggente non era sola giacché in effetti Andrew Farman rappresentava una scelta curiosa per una nelle cui vene scorreva il sangue del drago secondo genito di Lord Farman e neppure suo erede si narra che Andrew fosse un giovane di notevole bellezza con occhi di un azzurro delicato e lunghi capelli biondi ma aveva nove anni meno della regina e persino alla corte del padre c'era chi lui rideva come effeminato per la sua dolce loquela e la sua natura gentile dopo aver fallito in modo assai singolare come scudiero non era mai diventato cavaliere sprovvisto come era delle abilità nelle arti marziali del lord suo padre e del fratello maggiore per un po' di tempo il padre aveva preso in considerazione l'idea di inviarlo a vecchia città perché si forgiasse una catena di maestro fino a quando il suo stesso maestro non gli aveva detto che il ragazzo non era abbastanza intelligente e che sapeva a malapena leggere e scrivere successivamente quando le veniva chiesto perché mai avesse scelto uno sposo così poco promettente raina targaryen rispondeva è stato gentile con me anche il padre di andro si era mostrato altrettanto gentile offrendo le ricette su isola bella dopo la battaglia presso l'occhio degli dèi quando suo zio re maegor esigeva la sua cattura e i poveri compagni del reame la denunciavano come una vile peccatrice e le sue figlie come abomini secondo alcuni la regina vedova avrebbe preso andro come marito in parte per ricompensarne il padre per quell'atto di cortesia perché lord farman a sua volta un figlio cadetto che non si era mai immaginato di comandare nutriva notoriamente un grande affetto per andro a dispetto dei suoi limiti forse tale affermazione contiene una parte di verità tuttavia un'altra possibilità avanzata per la prima volta dal maestro di lord farman potrebbe centrare maggiormente il bersaglio su isola bella la regina trovò il suo vero amore scrisse maestro smike alla cittadella non con andro ma con sua sorella lady elissa tre anni maggiore di andro elissa farman possedeva gli stessi occhi azzurri e capelli biondi del fratello ma per il resto non potevano essere più diversi dotata di un umorismo tagliente e di una bella parlantina amava i cavalli i cani e i falchi era una deliziosa cantatrice e un'arciera provetta ma la sua grande passione erano le navi cavalchiamo il vento era il motto dei farman di isola bella che erano salpati sui mari occidentali fin dal tempo dell'alba e lady elissa lo incarnava da bambina si diceva che trascorresse più tempo in mare che sulla terraferma gli equipaggi di suo padre erano abituati a ridere nel vederla arrampicarsi lungo le sartie come una scimmia a 14 anni salpò su un'imbarcazione tutta sua per navigare intorno a isola bella e solo a 20 aveva viaggiato così tanto da spingersi a nord fino all'isola dell'orso e a sud fino ad arbor spesso per l'orrore del lord suo padre e della lady sua madre esprimeva il desiderio di condurre una nave oltre l'orizzonte occidentale e scoprire quali terre strane e meravigliose potessero trovarsi alle remote estremità del mare del tramonto lady elissa era stata due volte fidanzata la prima a 12 anni e la seconda a 16 ma come ammetteva mestamente il padre aveva spaventato entrambi i ragazzi in rena targaryen invece trovò una compagna dalla mente affine e in lei la regina trovò una nuova confidente da allora insieme ad a lane royce e a samantha stokeworth due fra le più vecchie amiche di rena divennero quasi inseparabili una corte nella corte che sir franklin farman figlio maggiore di lord mark soprannominò la bestia a quattro teste andrew farman nuovo consorte di rena veniva talvolta ammesso nella cerchia ma mai tanto spesso da esserne giudicato la quinta testa più sintomatico ancora la regina rena non lo portò mai a volare sul dorso del suo drago sogno di fuoco un'avventura che invece condivideva di frequente con lady elissa alian e sam in tutta onestà è più che probabile che la regina abbia invitato andrew a condividere il cielo con lei solo per ottenere un rifiuto da parte sua già che l'uomo non era d'inclinazione avventurosa tuttavia sarebbe un errore giudicare il tempo trascorso dalla regina rena su isola bella come idilliaco non tutti accolsero lietamente la sua permanenza tutt'altro persino su quest'isola remota c'erano poveri compagni furibondi per il fatto che lord mark come suo padre prima di lui avesse fornito sostegno e rifugio a una creatura che consideravano nemica del credo la continua presenza di sogno di fuoco sull'isola costituiva a sua volta un problema se intravisto fuggevolmente ogni tanto un drago era un portento terribile da ammirare ed è vero che alcuni abitanti di isola bella si inorgoglierono per il fatto di avere un drago tutto nostro altri però divennero sempre più ansiosi per la presenza della bestia gigantesca specialmente man mano che diventava più grossa e affamata sfamare un drago in fase di crescita non è affare da poco e quando si seppe che sogno di fuoco aveva deposto una nidiata d'uova un confratello questuante delle colline dell'entroterra prese a predicare che isola bella presto sarebbe stata dominata da draghi intenti a divorare pecore e uomini a meno che un'ammazza draghi non si fosse fatto avanti e avesse posto fine alla piaga lord farman inviò dei cavalieri per catturarlo e metterlo a tacere ma non prima che in migliaia avessero ascoltato le sue profezie e sebbene il predicatore sia morto nelle segrete sotto bel castello le sue parole sopravvissero alimentando la paura negli ignoranti ovunque fossero udite persino entro le mura della dimora dello stesso lord farman la regina raena aveva dei nemici che facevano capo al primo erede di sua signoria sir franklin aveva combattuto nella battaglia presso l'occhio degli dèi e lì era stato ferito versando sangue al servizio del principe egon il senza corona suo nonno era morto sul medesimo campo di battaglia insieme al figlio maggiore ed era toccato a lui riportarne le salme a isola bella eppure gli pareva che raen targaryen mostrasse ben poco rammarico per tutto il dolore che aveva arrecato a casa farman e ben poca gratitudine nei suoi stessi confronti detestava inoltre l'amicizia con sua sorella elissa anziché incoraggiarla in quelle che egli reputava abitudini refrattarie agli obblighi e selvagge Sir Franklin riteneva che la regina dovesse spronarla a sua volta a compiere il proprio dovere verso la casata con un matrimonio adeguato e dei figli né egli apprezzava il modo in cui la bestia a quattro teste era in qualche maniera divenuta il centro della vita di corte a bel castello laddove il lord suo padre e lui stesso passavano sempre più in secondo piano in ciò egli aveva le sue buone ragioni in numero sempre maggiore lord provenienti dalle terre occidentali e persino più remote si recavano in visita a Isola Bella ha noto maestro Smyke ma quando vi giungevano era per avere un'udienza con la regina in occidente non con il lord minore di una piccola isola e suo figlio niente di tutto ciò preoccupò particolarmente la regina e i suoi familiari finché Mark Farman regnò a bel castello perché sua signoria era un uomo amabile e di buon cuore che adorava tutti i suoi eredi inclusi la figlia ribelle e il figlio debole e amava Rhaena Targaryen per il fatto che lei li amava a sua volta tuttavia meno di 15 giorni dopo che la regina Andrew Farman celebravano il primo anniversario della loro unione lord Mark morì improvvisamente al suo desco strozzato da una lisca di pesce all'età di 64 anni e con il suo decesso Sir Franklin divenne lord di Isola Bella perse poco tempo il giorno dopo il funerale del padre convocò Rhaena nella sua grande sala non si sarebbe certamente degnato di andare da lei e le ordinò di lasciare l'isola nessuno ti vuole qui le disse non sei la benvenuta porta con te il tuo drago i tuoi amici e il mio fratellino che di sicuro si piscerebbe addosso se l'obbligassimo a restare ma non pensare di prendere mia sorella lei resterà qui e si sposerà con un uomo di mia scelta a Franklin Farman non mancava certo il coraggio come maestro Smyke scrisse in una lettera inviata alla cittadella ma gli mancava sicuramente il buonsenso e in quel momento sembrò non accorgersi di quanto fosse vicino alla morte riuscivo a vederle il fuoco negli occhi disse il maestro e per un istante scorsi bel castello bruciare con le bianche torri che si annerivano e crollavano in mare mentre le fiamme guizzavano da tutte le finestre e il drago roteava in cielo ancora e ancora Rena Targaryen era il sangue del drago e fin troppo orgogliosa per indugiare dove non fosse desiderata partì da Isola Bella quella notte stessa volando alla volta di Castai Granito sulle ali di sogno di fuoco dopo aver lasciato istruzioni al marito e ai compagni di raggiungerla per nave con tutti coloro che mi amano quando Andrew paonazzo di rabbia si offrì di affrontare il fratello in singola attenzione la regina lo dissuase subito ti farebbe a pezzi amore mio e io sarai vedova per la terza volta gli uomini mi chiamerebbero strega o peggio e mi darebbero la caccia in tutto il continente occidentale Lyman Lannister lord di Castel Granito l'aveva accolta in passato ricordò lo sposo era fiduciosa che l'avrebbe accolta di nuovo Andrew Farman Samantha Stockworth e Ellen Royce partirono la mattina seguente accompagnati da oltre 40 persone tra amici della regina servitori e parassiti perché sua grazia aveva radunato un seguito considerevole in qualità di regina in occidente la di Elissa si era unita a loro perché non aveva alcuna intenzione di rimanere laggiù la sua nave sogno della fanciulla era pronta per la traversata ma quando la compagnia della regina raggiunse il molo trovarono Sir Franklin ad attenderli gli altri potevano andare che liberazione annunziò ma sua sorella sarebbe rimasta a Isola Bella per sposarsi tuttavia il nuovo lord aveva portato con sé solo una decina di uomini e aveva gravemente sottovalutato l'affetto del popolo per sua sorella in particolare marinai carpentieri pescatori facchini e altri abitanti dei quartieri del porto molti dei quali la conoscevano da quando era bambina mentre Lady Elissa affrontava il fratello sputando contro di lui e intimandogli di farsi da parte intorno a loro si radunò una folla che si incupiva ogni momento che passava incurante del loro umore sua signoria tentò di catturare la sorella quando la gente del porto scattò tutta insieme sopraffacendo i suoi uomini prima che riuscissero persino a sguenare le spade tre di loro furono gettati in acqua mentre Lord Farclin stesso fu spintonato in una barca piena di merluzzo fresco Elissa Farman e gli altri amici della regina salirono a bordo del sogno della fanciulla in Columi e salparono per Lannisport Lyman Lannister Lord di Castelgranito aveva offerto ricetto a Raena e a suo marito Egon il senza corona quando Magor il crudele reclamava le loro teste il figlio bastardo Sir Tyler Hill aveva combattuto al fianco del principe Egon presso l'occhio degli dèi sua moglie la formidabile Lady Giocasta di casa Tarbeck aveva accolto con amicizia Raena nel periodo trascorso alla roccia ed era stata la prima a notare che era incinta esattamente come la regina si aspettava la accolsero anche adesso e quando il resto della compagnia traccò all'annisport accolsero anche costoro in loro onore si tenne un fastoso banchetto un'intera stalla fu data in pasto a sogno di fuoco mentre alla regina Raena al marito e alle sue compagne della bestia a quattro teste fu assegnato un complesso di appartamenti arredati regalmente nel cuore della roccia stessa al sicuro da ogni minaccia lì si attardarono per più di un cambio di luna godendo dell'ospitalità della casa più ricca di tutto il continente occidentale tuttavia con il passare dei giorni agli occhi di Raena Targaryen proprio quell'ospitalità divenne sempre più inquietante le risultò evidente che gli inservienti e i domestici loro assegnati fossero delatori e spie che riportavano ogni loro azione a Lord e Lady Lannister una delle septe del castello domandò a Samantha Stockworth se il matrimonio della regina con Andrew Farman fosse mai stato consumato e in tal caso chi avesse presenziato alle nozze Sir Tyler Hill l'avvenente figlio bastardo di Lord Lyman mostrava evidente disprezzo per Andrew persino mentre tentava in ogni modo di ingraziarsi Raena stessa intrattenendola con racconti delle sue imprese durante la battaglia presso l'occhio degli dei e mostrandole le cicatrici che si era procurato al servizio del tuo Egon Lord Lyman stesso cominciò a manifestare un interesse sinistro per le tre uova di drago che la regina aveva portato con sé da Isola Bella domandandosi come e quando ci si poteva aspettare che si sarebbero schiuse in privato sua moglie Lady Giocasta suggerì che qualora sua grazia avesse voluto dimostrare la sua gratitudine a casa Lannister per averla accolta una o più uova sarebbero state uno splendido dono quando tale strategia non ebbe successo Lord Lyman si offrì direttamente di acquistarle per una somma davvero stupefacente allora Raena comprese che il Lord di Castelgranito voleva più di una ospite di alti natali sotto il calore di facciata era troppo scaltro e ambizioso per accontentarsi di così poco voleva un'alleanza col trono di spade magari con un matrimonio fra lei e il suo bastardo o uno dei figli legittimi un'unione che innalzasse i Lannister sopra gli Hightower i Baratheon e i Velaryon per diventare la seconda casata del Reame e voleva i Draghi con dei cavalieri di Draghi nella loro stessa casata i Lannister sarebbero stati pari ai Targaryen erano re una volta ricordò a Sam Stockworth lui adesso sorride ma è stato cresciuto con racconti su campo di fuoco e non avrà certo dimenticato e Rhaena Targaryen conosceva a sua volta la storia della propria famiglia quella della libera fortezza di Valyria scritta con fuoco e sangue non possiamo restare qui confidò ai suoi cari compagni a questo punto dobbiamo lasciare la regina Rhaena per un po' mentre rivolgiamo nuovamente il nostro sguardo verso a Prodo del Re e la Roccia del Drago dove la reggente e il re rimanevano in disaccordo per quanto la questione del matrimonio del re irritasse la regina Alissa e Lord Rogar non si pensi che ciò costituisse l'unico motivo di preoccupazione durante la loro reggenza il denaro o meglio la sua mancanza restava il problema più urgente della corona le guerre di Re Magor si erano rivelate rovinosamente esose svuotando la cassa reale per riempire i suoi forzieri il maestro del conio di Magor aveva aumentato le tasse esistenti e ne aveva imposte di nuove ma tali misure portarono meno oro del previsto e servirono solo a rafforzare l'avversione dei lord del reame nei confronti del re né la situazione era migliorata con l'ascesa di Geharis l'incoronazione del giovane principe e le nozze d'oro di sua madre erano state entrambe due ottimi affari che avevano largamente contribuito a conquistargli l'amore dei lord e del popolo tutto però a un prezzo e all'orizzonte incombevano spese persino più ingenti lord rogar era determinato a completare la fossa del drago prima di consegnare la città e il regno a Geharis ma i fondi scarseggiavano eduel Celtigar lord di isola della chela si era rivelato un primo cavaliere incapace sotto Megori il crudele offertagli una seconda possibilità durante la reggenza si dimostrò altrettanto incapace come maestro del conio non disposto a offendere i lord suoi compari Celtigar decise di imporre nuove tasse al popolo di approdo del re che si trovava convenientemente a portata di mano le tariffe portuali furono triplicate taluni beni tassati sia che venissero importati sia esportati e nuovi tributi furono richiesti a locandieri e costruttori nessuna di tali misure ebbe l'effetto sperato di riempire i forzieri del tesoro invece i cantieri si arrestarono le locande si svuotarono e il commercio diminuì notevolmente con i mercanti che mutavano la rotta delle loro navi e anziché a prodo del re sceglievano Driftmark Daskandell Maedenpool e altri porti dove eludere le tassazioni Lenninsport e vecchia città le due altre grandi città del reame furono incluse nelle nuove tasse di Lord Celtigar ma lì i decreti ebbero minore effetto soprattutto perché Castelgranito e Altatorre li ignorarono e non compirono alcuno sforzo per raccogliere il dovuto i nuovi tributi tuttavia contribuirono ad alimentare l'odio nei confronti del Lord Celtigar in tutta la città e anche Lord Rogar e la regina Alissa ricevettero la loro porzione di disapprovazione un altro problema restava la fossa del drago la corona non aveva più i fondi necessari per pagare i costruttori e l'intero cantiere sulla cupola gigantesca si arrestò e sia a nord sia a sud si stavano radunando nuvole di tempesta con Lord Rogar affaccendato ad approdo del re i dorniani si fecero audaci razziando sempre più spesso nelle terre basse e arrivando persino a minacciare le terre della tempesta si vociferava di un nuovo re a voltoio nelle montagne rosse e Boris e Garon fratelli di Lord Rogar ripetevano incessantemente di non avere gli uomini e il denaro richiesti per riuscire a stanarlo al nord la situazione era persino più spaventosa Brandon Stark Lord di Grande Inverno era morto nel 49 DC non molto dopo essere ritornato dalle nozze d'oro il viaggio dissero i nordici era stato troppo per lui gli succedette suo figlio Walton e quando un'improvvisa rivolta scoppiò nel 50 DC fra i guardiani della notte di Porta della Brina e Radura degli Zibellini egli radunò le sue forze e cavalcò fino alla barriera per unirsi ai guardiani leali e abbattere gli altri i ribelli erano gli ex poveri compagni e figli del guerriero che avevano accettato la clemenza del re ragazzo ed erano capitanati da Sir Oliver Bracken e Sir Raymond Mallery i due cavalieri volta gabbana che avevano servito nella guardia reale di Magor prima di abbandonarlo per Geheris poco saggiamente il lord comandante dei guardiani della notte aveva conferito a Bracken e a Mallery il comando di due fortilizi in rovina con l'ordine di restaurarli invece i due decisero di trasformare quei castelli in loro dimore feudali e insediarsi come lord la loro insurrezione ebbe vita breve per ogni uomo dei guardiani della notte che si unì alla ribellione dieci rimasero fedeli ai loro voti una volta raggiunti da lord Stark e dai suoi alfieri i confratelli in nero riconquistarono porta della brina e impiccarono gli spergiuri eccetto Sir Oliver stesso che fu decapitato da lord Stark con la sua celebre spada ghiaccio quando la notizia raggiunse era dura degli zibellini i ribelli fuggirono al di là della barriera nella speranza di fare causa comune con i bruti lord Walton diede loro la caccia ma dopo due giorni fra le nevi della foresta stregata lui e i suoi uomini furono aggrediti dai giganti in seguito si scrisse che il solo Walton Stark ne uccise due prima di essere strappato di sella e dilaniato i suoi uomini superstiti riportarono il corpo al Castel Nero a pezzi quanto a Sir Raymond Mallery e agli altri traditori i bruti riservarono loro un'accoglienza assai fredda ribelli o meno il popolo libero non aveva alcun interesse per i corvi mezzo anno dopo la testa di Sir Raymond fu consegnata a Forte Orientale quando fu domandato cosa fosse successo al resto dei suoi uomini il capo dei bruti risa e rispose le abbiamo mangiati il secondo genito di Brandon Stark Alaric divenne lord di Grande Inverno avrebbe governato sul nord per ventitré anni un uomo capace per quanto assai severo ma per molto tempo non ebbe buona opinione di Jaehaerys perché incolpava la clemenza del re per la morte di suo fratello Walton e lo si sentì spesso affermare che sua grazia avrebbe dovuto decapitare gli uomini di Magor anziché mandarli alla barriera ben lontano dai gravi problemi del nord re Jaehaerys e la regina Alisanne permanevano nel loro autoimposto esilio dalla corte ma erano tutt'altro che inattivi ogni mattina Jaehaerys proseguiva il suo rigoglioso regime d'addestramento con i cavalieri della guardia reale e dedicava le notti a studiare i racconti del regno di suo nonno Aegon il conquistatore su cui desiderava modellare il proprio governo i tre maestri della roccia del drago lo assistevano in queste indagini così come la regina col passare dei giorni sempre più visitatori si recavano alla roccia del drago per conferire con il re lord Messey di Stone Dance fu il primo a presentarsi ma lord Staunton di riposo del corvo lord Darklyn di Duskendale e lord Bar Ammon di punta accuminata gli furono alle calcagna seguiti a loro volta dai lord Heart Rollingford Mouton Stockworth il giovane lord Rosby il cui padre si era tolto la vita alla caduta di Magor si presentò a sua volta implorando supplichevole il perdono del giovane re che Geheris fu lieto di concedere sebbene Daemon Velaryon in qualità di lord ammiraglio della corona e comandante delle navi si trovasse ad approdo del re con i reggenti ciò non impedì a Geheris e a Lisanne di volare con i loro draghi alla volta di Driftmark e passeggiare lungo i moli accompagnati dai figli di Daemon ossia Corvin Jorgen e Victor quando la notizia di questi incontri giunse alle orecchie di lord Rogar ad approdo del re questi si infuriò e giunse persino a domandare a Daemon Velaryon se la flotta Velaryon potesse essere impiegata per impedire a quei lord leccaculo di strisciare alla roccia del drago per entrare nelle grazie del re ragazzo la risposta di lord Velaryon fu schietta no si limitò a dire il primo cavaliere lo prese come l'ennesimo affronto nel frattempo le nuove damigelle e compagni della regina Alisanne si erano stabilite alla roccia del drago e presto risultò assai chiaro che la speranza di sua madre che tali assennate riuscissero a persuadere la piccola regina che il suo matrimonio era poco saggio ed empio si rivelò seriamente mal riposta né preghiere né sermoni né letture di la stella a sette punte riuscirono a scuotere la convinzione di Alisanne che gli dèi avevano voluto che lei sposasse il fratello Geheris per essere sua confidente aiuto e madre dei suoi figli lui sarà un grande re disse a setta Isabel a lei di Lucinda e alle altre e io una grande regina fu così ferma nella sua convinzione e così cortese amabile e affettuosa in tutto il resto che la setta e le altre assennate scoprirono di non poterla condannare e ogni giorno che passava si spostavano sempre più dalla sua parte il piano privato di lord Rogar per dividere Geheris e Alisanne non sortì effetti migliori il giovane re e la sua regina avevano intenzione di trascorrere la vita insieme e sebbene molti anni dopo avrebbero litigato e trascorso momenti di separazione solo per poi riconciliarsi Septon Oswick e maestro Caliper ci informano entrambi che neppure una nube o una parola sgarbata turbò il loro tempo insieme alla roccia del drago prima che Geheris raggiungesse la maggiore età davvero Corian Wild fallì nel sedurre il re è possibile che non ci abbia neppure provato e se tutto il racconto dell'incontro alla locanda non fosse altro che una finzione tutto questo è plausibile l'autrice dell'ammonimento per le giovani vorrebbe farci credere altrimenti ma è qui che quel testo infame diventa persino meno affidabile frammentandosi in mezza dozzina di versioni contraddittorie ciascuna più volgare della precedente non si addice alla lasciva protagonista a mettere al centro di quel racconto che Geheris l'ha rifiutata o che non si è mai presentata l'occasione per attirarlo in un talamo invece ci viene proposta una serie di varie laide avventure un autentico banchetto di uscenità il racconto lascivo insiste sul fatto che Lady Corian non solo giacque col re ma anche con tutti e sette i membri della guardia reale suppone che dopo aver saziato i suoi appetiti carnali sua grazia l'abbia affidata a Pate la beccaccia e Pate a sua volta a Sir Geoffrey e così via alti e bassi omette tali dettagli ma ci racconta che Geheris non solo accolse la ragazza nel suo letto ma che coinvolse anche la regina Alisanne in quei sollazzi associabili per lo più alle famigerate case del piacere di Liss una storia in qualche misura più plausibile viene narrata nei Peccati della Carne laddove Corian Wilde riesce davvero ad attirare re Geheris nel suo letto solo per scoprirlo impacciato insicuro e fin troppo frettoloso come è risaputo che si comportino molti ragazzi della sua età quando giacciono per la prima volta con una fanciulla tuttavia a quel punto Lady Corian era arrivata ad ammirare e rispettare la regina Alisanne come se fosse la mia sorella minore e aveva sviluppato sentimenti d'affetto anche per Geheris perciò anziché tentare di distruggere il matrimonio del re si assunse il compito di trasformarlo in un successo educando sua grazia all'arte di dare e ricevere piacere carnale così da non mostrarsi incapace quando fosse giunto il momento di giacere con la sua giovane consorte questa versione potrebbe essere frutto di fantasia come le altre anche se caratterizzata da una certa dolcezza che ha indotto taluni studiosi a non escludere che il fatto possa essere accaduto favole lascive non sono comunque storia e la storia ci riferisce un unico dato certo sull'edico riand di casa wild presunta autrice di un ammonimento per le giovani il quindicesimo giorno del sesto mese del 50 dc partì dalla roccia del drago col favore delle tenebre in compagnia di sir howard ballock figlio più giovane del comandante della guarnigione un uomo sposato sir howard partì abbandonando la moglie sebbene avesse portato via anche gran parte dei gioielli di lei un'imbarcazione da pesca trasportò lui e Lady Corian a Driftmark dove salparono per la città libera di Pentos da lì si diressero verso le terre contese dove sir howard si arruolò in una compagnia libera chiamata con singolare mancanza di immaginazione compagnia libera sarebbe morto a mir tre anni più tardi non in battaglia ma per una caduta da cavallo dopo una notte di ubriachezza sola e senza il becco di un quattrino Corian Wild passò alla successiva delle prove tribolazioni e avventure erotiche narrate nel suo libro ne avremo più bisogno di sentirne parlare quando la notizia della fuga di Lady Corian e i suoi trafugati gioielli e il suo altrettanto trafugato marito giunse alle orecchie di Lord Rogar alla fortezza rossa fu ovvio che il suo piano era fallito così come quello della regina Alissa la devozione religiosa e la lussuria si erano parimenti dimostrate incapaci di spezzare il legame fra Geheris Targaryen e la sua Alisanne per di più la notizia del matrimonio del sovrano aveva cominciato a diffondersi in troppi avevano assistito al confronto ai cancelli del castello e i Lord che si erano presentati in seguito alla roccia del drago non avevano mancato di notare la presenza di Alisanne al fianco del re o l'evidente affetto tra loro Lord Rogar aveva un bel dire che gli avrebbe strappato la lingua ma era impotente contro i sussurri che si diffondevano per il paese e persino attraverso il mare stretto dove i magistri di Pentos e i mercenari della compagnia libera si dilettavano certamente con le storie che Corian Wilde aveva da raccontare ormai è fatta sentenziò la regina reggente ai suoi consiglieri quando alla fine accettò la verità è fatta e non può essere disfatta che i sette ci salvino dobbiamo imparare a conviverci e servirci di tutto il nostro potere per proteggerli da ciò che potrebbe capitare aveva perso due figli sotto Megori il crudele e c'era freddezza tra lei e la figlia maggiore non poteva tollerare il pensiero di essere diventata per sempre un'estranea per gli unici due figli che le restavano tuttavia Lord Rogar non poteva piegarsi con altrettanta eleganza e le parole della moglie lo trasformarono in una furia al cospetto di Gran Maestro Benifer Septon Matteus Lord Belarion e gli altri le parlò con disprezzo sei debole come lo era tuo marito e come lo è tuo figlio sentimento che può essere perdonato in una madre ma non in una reggente e mai in un re siamo stati degli idioti a incoronare Geheris pensa solo a se stesso e sarà un re peggiore di suo padre siano ringraziati gli dei che non è troppo tardi dobbiamo agire adesso e metterlo da parte all'udire ciò la stanza piombò nel silenzio la reggina reggente fissò il marito con orrore e poi come a dimostrare che egli aveva veramente proferito quelle parole cominciò a piangere le lacrime che scorrevano silenziose sulle guance solo allora gli altri lord ritrovarono la parola sei forse impazzito gli chiese lord velarion lord corbrae comandante della guardia cittadina scosse la testa e disse i miei uomini non si schiereranno mai a favore di una scelta simile gran maestro benifer scambiò un'occhiata con pentius tulli maestro delle leggi e lord tulli domandò dunque a intenzione di rivendicare per te stesso il trono di spade lord rogar negò con vehemenza mai mi avete preso forse per un usurpatore desidero solo ciò che è meglio per i sette regni a geheris non sarà fatto alcun male possiamo mandarlo a vecchia città alla cittadella è un ragazzo che ama leggere e una catena di maestro gli si addice perfettamente chi siederà sul trono di spade allora chiese lord celtigar la principessa aerea rispose lord rogar senza esitare c'è un fuoco in lei che geheris non possiede ella è giovane ma posso assisterla in qualità di suo primo cavaliere guidarla insegnarle tutto ciò che le occorre sapere la sua pretesa al trono è più fondata perché i suoi genitori erano i primi due figli di reenis e geheris è solo il quarto genito benifer narra che a quel punto egli sbatté un pugno sul tavolo sua madre la appoggerà la regina raena e raena ha un drago gran maestro benifer così ricorda quanto seguì ci fu un gran silenzio sebbene le stesse parole fossero sulla bocca di tutti anche geheris e alisanne hanno dei draghi quark orbrey aveva combattuto nella battaglia presso l'occhio degli dèi e assistito al terribile spettacolo di drago contro drago in noi altri le parole del primo evocano visioni dell'antica valiria prima del disastro quando i signori dei draghi si contendevano la supremazia una visione spaventosa fu la regina alissa che spezzò l'incantesimo continuando a piangere io sono la regina reggente ricordò loro finché mio figlio non raggiungerà la maggiore età voi tutti servirete come più mi aggrada compreso il primo cavaliere benifer ci narra che quando si rivolse al suo marito gli occhi della regina erano duri e neri come ossidiana non sono più soddisfatta dei tuoi servigi lord rogar lasciaci e fai ritorno a capo tempesta e non parleremo mai più del tuo tradimento rogar barateon la fissò incredulo donna credi di potermi congedare no rise lui no fu allora che lord corbrey si alzò e sguenò la spada in acciaio di valyria e chiamata signora malinconica orgoglio della sua casata si si limitò a dire e depose la spada sul tavolo la punta rivolta verso lord rogar fu allora e solo allora che sua signoria comprese di essersi spinto troppo oltre e che era rimasto solo contro tutti gli uomini presenti nella sala o così Bennifer ci narra sua signoria non aggiunse altro pallido in viso si alzò e si tolse il fermaglio d'oro che la regina Alissa gli aveva donato come segno del suo titolo glielo gettò sprezzante e uscì a grandi falcate partì da a prodo del re quella notte stessa attraversando le rapide nere con il fratello Orrin poi attese sei giorni mentre suo fratello Ronald radunava i loro cavalieri e uomini armati per marciare fino a casa la leggenda narra che lord rogar li attese nella medesima locanda accanto al traghetto dove lui o suo fratello Boris aveva incontrato Corian Wilde quando finalmente i fratelli Baratheon e le loro leve partirono per capotempesta avevano a malapena metà degli uomini che avevano marciato con loro due anni prima per rovesciare Magor gli altri a quanto pare preferivano i vicoli le taverne e le tentazioni della grande città ai boschi piovosi alle verdi colline e alle villette coperte d'edera delle terre della tempesta non ho mai perso tanti uomini in battaglia quanti nei bordelli e nelle birrerie di approdo del re pare abbia sentenziato lord rogar amaramente fra coloro che erano scomparsi c'era area targaryen la notte del congedo di lord rogar sir ronald baratheon e una decina di uomini si erano introdotti a forza nei suoi appartamenti nella fortezza rossa intenzionati a portarla via solo per scoprire che la regina alissa li aveva preceduti la ragazza non c'era più e i suoi servitori ignoravano dove fosse in seguito si apprese che lord corbrae l'aveva fatta trasferire per ordine della regina reggente vestita con gli stracci di una ragazza comune e di infimo grado i capelli oro argentati e neriti per sembrare di un castano fangoso la principessa aerea avrebbe trascorso il resto della reggenza lavorando in una stalla nei pressi della porta del re aveva otto anni e amava i cavalli anni dopo avrebbe raccontato che quello fu il periodo più felice della sua vita triste a dirsi gli anni a venire avevano in serbo ben poca felicità per la regina alissa il fatto di aver rimosso il marito dalla carica di primo cavaliere distrusse ogni effetto che lord rogar aveva nutrito per lei da quel momento in avanti il loro matrimonio si trasformò in un castello in rovina un involucro vuoto infestato dai fantasmi alissa velarion era sopravvissuta alla morte del suo primo marito e a quella dei due figli maggiori a una figlia deceduta nella culla a danni di terrore sottomegori il crudele e a una spaccatura con i figli rimasti ma non riuscì a sopravvivere anche a questo avrebbe scritto septombart ripercorrendone la vita ciò la distrusse la testimonianza cueva di gran maestro benifer concorda partito lord rogar la regina alissa nominò suo fratello daemon belarion quale primo cavaliere inviò un corvo messaggero alla roccia del drago per raccontare a suo figlio geharis una parte ma non tutto dell'accaduto e poi si ritirò nelle sue stanze nel fortino di megor per quanto restava della reggenza affidò il governo dei sette regni a lord daemon e non prese più parte alcuna alla vita pubblica sarebbe compito più gradevole riportare che rogar barateon una volta tornato a capotempesta abbia riflettuto sulla sua condotta si sia pentito degli errori commessi e sia diventato un uomo assennato ahi noi ciò non rientrava nella natura di sua signoria era un uomo che non sapeva cedere il sapore amaro della sconfitta era come bile in fondo alla gola in guerra si vantava non avrebbe mai deposto l'ascia finché gli fosse rimasta vita in corpo e per lui questa faccenda del matrimonio del re era diventata una guerra una guerra che era determinato a vincere gli restava ancora un'ultima follia di fronte alla quale non si sarebbe tirato indietro fu così che a vecchia città presso la casa conventuale annessa al tempio stellato ser orren barateon si presentò improvvisamente con una decina di uomini armati e una lettera recante al sigillo di lord roger in cui si intimava di affidargli immediatamente la novizia raella targaryen interrogato al riguardo ser orren si limitò a dire che lord roger aveva urgente bisogno della ragazza capo tempesta la congiura avrebbe anche potuto funzionare ma septa carolyn che quel giorno era di turno alla guardiola del convento aveva spina dorsale e una natura sospettosa mentre placava ser orren col pretesto di convocare la ragazza mandò a chiamare l'alto septon sua santità forse fortunatamente sia per la bambina sia per il reame dormiva ma il suo sovrintendente un ex cavaliere che era stato capitano dei figli del guerriero prima che fossero aboliti era sveglio e allerta al posto di una bambina spaventata i baratheon si ritrovarono a fronteggiare 30 septon armati sotto il comando del loro sovrintendente Casper Stroh quando ser orren brandì la sua spada Stroh lo informò placidamente che una quarantina di cavalieri di lord hightower stavano arrivando in realtà era una menzogna al che i baratheon si arresero interrogato ser orren confessò l'intera congiura avrebbe dovuto consegnare la bambina a capo tempesta dove lord rogar aveva intenzione di obbligarla ad ammettere di essere la vera principessa aerea non rella poi l'avrebbe nominata regina il padre dei credenti un uomo tanto gentile quanto debole di volontà ascoltò la confessione di orrin baratheon e lo perdonò ciò non impedì al lord hightower una volta informato di gettare i prigionieri baratheon nelle sue segrete e inviare una missiva con un completo resoconto della vicenda che si era svolta alla fortezza rossa e alla roccia del drago donnell hightower che era stato giustamente soprannominato donnell il temporeggiatore per la sua riluttanza scendere in campo contro septon luna e i suoi seguaci sembrava non temesse affatto di offendere il lord di capotempesta imprigionandone il fratello che venga pure e cerchi di liberarlo dichiarò quando il suo maestro si disse preoccupato circa la possibile reazione dell'ex primo cavaliere sua moglie l'ha privato del titolo di primo cavaliere e gli ha tagliato le palle e ben presto il re avrà anche la sua testa all'altra estremità del continente occidentale rogar barateon fumava e ruggiva la notizia del fallimento e imprigionamento di suo fratello ma non convocò i suoi alfieri come molti temevano piuttosto cadde nella più totale disperazione sono spacciato confidò cupamente al suo maestro se gli dei sono benevoli mi aspetta la barriera altrimenti il ragazzo vorrà la mia testa che la presenterà in dono a sua madre non avendo generato figli con entrambe le sue mogli comandò al maestro di stendere un testamento e una confessione in cui assolveva i fratelli Boris Geron e Ronald dall'aver preso parte ai suoi misfatti implorava clemenza per il fratello minore Orrin nominava Sir Boris erede di Capotempesta tutto ciò che ho compiuto e cercato di compiere è stato per il bene del reame e del trono di spade concluse sua signoria non avrebbe dovuto attendere a lungo per conoscere il suo destino la regenza era quasi alla fine con il precedente primo e la regina reggente entrambi feriti e silenziosi lord Daemon Belarion e gli altri membri del concilio della regina governarono il regno al meglio delle loro possibilità dicendo poco e agendo ancor meno nelle parole di gran maestro Benifer nel ventesimo giorno del nono mese del 51 dici Jaehaerys Targaryen giunse al suo sedicesimo compleanno e divenne un uomo adulto per le leggi dei sette regni adesso era abbastanza grande da regnare a pieno diritto senza più bisogno di alcun reggente e in tutti i sette regni i lord e il popolo aspettavano di vedere che genere di re sarebbe stato